Se sei un giovane che si affaccia al mondo del lavoro o se sei una persona con anni di esperienza che vuole cambiare la propria vita, ti invitiamo al nostro evento del 25 marzo alla Camera di Commercio di Firenze. Qui potrai incontrare il servizio Nuove Imprese insieme all'ecosistema fiorentino dell'innovazione, che ti daranno informazioni su come avviare la tua impresa. Se il tuo progetto si distingue per la sua innovazione e tecnologia, con il nostro supporto puoi trasformare la tua visione in una startup innovativa. Il nostro Open Day sarà il tuo primo passo verso una nuova prospettiva lavorativa. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16 e 30. Comincia da qui!